Incontriamo Luca Fortunato responsabile della capanna di Betlemme di Chieti che tutto l'anno dà accoglienza e assistenza a chi ne ha bisogno. Ora è ancora più intensa l'attività per la preparazione delle varie manifestazioni per il Natale che si svolgeranno sia all'interno della struttura ma anche fuori con i volontari che porteranno cibo, sorrisi e un plaid agli irriducibili senza tetto. Ma Luca Fortunato mette in evidenza assieme alla crisi e alla povertà sempre più dilagante la situazione odierna anche un altro problema che non deve essere sottovalutato post-covida e che riguarda soprattutto i ragazzi giovani. Per questo il motto scelto quest'anno è posso stare con te? Punto di domanda. La grafica, il disegno che abbiamo pensato è un cervello a forma di cuore con delle mani che hanno tra le mani appunto questo cervello a forma di cuore perché è dedicato alla salute mentale, perché si è aggravata la salute mentale di tante persone, quindi sia di chi vive in strada, sia di famiglie che sono finite in grave difficoltà economica e soprattutto di tantissimi ragazzini. Quindi questo post-pandemia ci lascia questa eredità, non solo una povertà economica maggiore ma un grande problema di salute mentale dove le istituzioni, almeno in Abruzzo, soprattutto l'ASL, non è pronta minimamente ad affrontare questo tipo di emergenza. E quindi la prossimità, lo stare vicino ancora di più può essere un salvavita proprio da tutto quello che può portare una salute mentale non curata. Quindi questa è la frase, facciamo tante iniziative che di per sé non sono iniziative, ormai sono diventate cose ordinarie, quindi durante tutto l'anno siamo sempre presenti al fianco delle persone. E arrivate le feste facciamo delle proposte di bellezza, di stare bene insieme, quindi faremo il 24, facciamo un'unità di strada dove invitiamo i senza dimora che sono rimasti in strada a venire da noi, facciamo un bellissimo cenone e abbiamo pensato un dono per tutti, abbiamo preso dei pile caldissimi e con questa scritta posso stare con te che doneremo ad ognuno. Il 25 ci dividiamo in tre, quindi facciamo un pranzo di Natale qui aperto a tutti, sempre ottimo con un catering, un ristoratore teatino, quindi un ottimo pranzo. In più consegneremo a casa pure, per chi vuole restare a casa, consegneremo sempre tramite catering questo pranzo. In più faremo un altro pranzo in strada per le persone proprio che rifiutano, perché purtroppo ci sono persone che rifiutano proprio di entrare, perché hanno tanti problemi, tra cui anche sanitario, depressioni e quindi ci moltiplichiamo per tre e poi il 25 a sera, 18, facciamo una tombolata aperta a tutti con dei premi, quindi che è anche un modo poi per giocare e vivere un po' di spensieratezza. E poi dopo c'è il programma del Capodanno, magari presto vai a parlarne oggi. Come tutti noi possiamo contribuire per darvi una mano? Contribuire intanto sicuramente chiederci se ci può servire qualcosa in più, oppure c'è anche un IBAN dove è possibile fare delle donazioni, però a noi piace tantissimo conoscere le persone, invitarle a venire a vedere e poi anche attraverso questo scambio di un dono concreto ci si scambia una setta di mano e dopo è bello.